Dopo il successo del 2022 Socmel arriva alla nuova edizione del 2023 con il grande ritorno delle bazze. Tra le primissime aziende che riconfermano il coupon c'è Agenzia del Toro che sfoggia la sua imperdibile promo nel Socmel 2023. Siamo il più vecchio studio di consulenza automobilistica di Bologna. L'Agenzia del Toro è nata nel 1954, si occupa di consulenza automobilistica nel senso che noi cerchiamo di risolvere tutti i problemi legati all'ambito automobilistico. A parte le cose più normali, i passaggi di proprietà, i bolli, ci occupiamo anche di imbarcazioni, è nato lo Sted che è lo sforterro telematico dell'importista, adesso anche per le imbarcazioni tutte le operazioni verranno fatte dalle agenzie abilitate che possono operare con lo Sted. Seguiamo tantissime altre cose, dall'autotrasporto, merce, le patente. Quando c'è qualcosa di complicato arrivano da noi. Il valido collaboratore che è anche lui. Ciao! Promuovi la tua attività inserendo la bazza nel Socmel 2023. I bolognesi impazziranno per la tua promozione quando la vedranno nel calendario dialettale. Cosa aspetti? Info chiocciola di mgroupbologna.it. Il Socmel è l'unico con le bazze.